Ci racconti i tuoi primi passi. Beh, i miei primi passi durano 30 anni. Nel senso che io le ho prese, botte, palate in faccia fino a 39 anni. Ora ne ho 64. E sono ancora un sex symbol, devo dirvi la verità. E la cosa... Non so perché faccia ridere. Perché la cosa che mi dispiace di più è che la gente viene a vedermi per vedere il mio corpo e non la mia arte, capisci? E allora ci provo ad andare in teatro, ma poi torno a striscia alla notizia e anche se sto 40 giorni, la gente in agosto mi ferma e fa l'ho vista ieri sera a striscia. Signore, siamo in agosto e non ci sono da quando era dicembre. Ma è ormai entrata in un luogo comune delle persone e anche se non ci sono, per tutti io sono lì, anche se non ci sono. Ed è detto questo, 39 anni di palate in faccia non sono pochi. I denti hanno resistito. Le dico una cosa seria soltanto. Io ho capito a nove anni che avevo un dono e ho capito che tutti noi abbiamo un dono. Il problema è riuscire a capire qual è. Era la seria questa. No, non pensavo che mi facesse ridere questa cosa. In realtà era la cosa seria. Perché se uno individua il proprio dono, cresce combattendo per lo sviluppo benefico del suo dono. Io dico sempre anche che, per esempio, una escort si scopre bella, fantastica e pensa Oh, a me piace, vado a Villa Certosa quando mi pare piace. Cioè, prendo i soldi, il mio dono è quello di essere bella. Siccome io bello non sono, a parte da qui in giù c'ho un colpicino, niente male e da nove anni suono qualsiasi tipo di strumento e canto qualsiasi tipo di canzone e già la maestra veniva da mio padre che la cacciava a calci nel sedere perché mio padre lavorava 14 ore al giorno per mantenere tre figli e una moglie Poverino, lei veniva e diceva, lo deve mandare al conservatorio perché questo bambino ha un talento e lui gli diceva, che cos'è il conservatorio? È una cosa di pomodori? E lei diceva, no, è una scuola di Milano dove si impara la musica il suo figlio ha un talento straordinario, legge la musica, suona qualsiasi cosa Io sono rimasto lì, come enfant prodigio non sono più progredito perché poi gli ho chiesto, comprami un pianoforte pá, comprami la chitarra, pá e lui diceva, è inutile che vai in questo mondo pieno di droga, di puttane e di raccomandazioni in realtà non aveva tutti i torti ma è lì che io ho capito che c'era anche una via giusta per arrivarci ed era quella del proprio talento io ho capito che avevo un talento e andavo contro tutti da solo contro tutti finché a 39 anni mi è capitato di fare un provino da mandare qua tanto, vero?